Noi ti auguriamo un nuovo anno ricco di interessi, fortuna, pensaci poi, e emozioni travolgenti, ognuno di noi, ognuno a suo modo ti vuole bene, e tutti speriamo di scrivere anche una piccola parte della storia di questo nuovo anno, per te appena è iniziato, questo è il secondo me, va? Ma speriamo che il nostro pensierino ti piaccia, puoi aprirlo tranquillamente, non contiene luci tanti, e tantomeno c'era per la testa, e già lì c'è se si vuole. Tanti, tanti, tantissimi auguri di poco pleno suito, e tanti, ma tanti, ma tanti altri, ancora dai tuoi amici, chi non ci vuole. Poi, vende oggi, lui l'ha messo a parte per leggere sul biglietto, a 29 anni, aspetta, scusate, non c'è cosa scritto, se iniziasse a contarli sarebbe solo una cosa positiva, no? C'era di cubre e ottimo, a prima di leggere il capo, a 29 anni ci sono un sacco di cose da fare, iniziare a contare i capelli, E' un biglietto, forse di un'offerta, allora, fare una scorta di crema antirughe, allora, a 29 anni, iniziare a contare i capelli bianchi, se iniziasse a contarli sarebbe già una cosa positiva, fosse un passo avanti, fare una scorta di crema antirughe, c'era di cubre e ottimo, anche da cosa non manca, e stare, e stare attenti ai 2 kg di troppo, soprattutto sui sedenti, comunque oggi non ci pensare e divertiti, muocomplanno da uguale, più uguale, Emanuela, Leatta, Analisa, Giorgio e Torino Scorinatore, ok, aspetta, Giorgio, la vorrela non c'è la tutta, vi è così? Il progetto non ce l'ha! Vediamo che cos'è. Non fa niente, sono a bonte, devo dimagrire. E' un avolo che è molto fresco. Dice DAF, Meshil. Ok, sedetevi. Certo, come Anna Hida è ciò? E cos'altro? Sarà bello. Io non c'errò meglio. Continuiamo dopo. Ciao Vida.